Ma è una, intanto una bellissima emozione soprattutto perché dopo 12 anni di vedere qui il treno Roma Calalzo sicuramente per uno che ha un papà che ha fatto il capostazione per tutta la vita è stato sicuramente emozionante è chiaro che questa è una bellissima soluzione che potrebbe risolvere anche qualche bel problema alla nostra viabilità è un treno che ho visto soprattutto all'interno adatto a tutti, molto comodo, spazioso sarà veramente una grandissima opportunità che mi auguro possa essere sfruttata da tutti coloro i quali volano venire a fare i turisti nelle nostre Dolomiti certo per arrivare a Cortina o nelle altre località è fondamentale riuscire a fare questa integrazione rotaia e gomma che può permettere veramente ulteriori opportunità quindi nella speranza di avere autisti perché il grosso problema nostro di Dolomiti Bus è proprio il riperimento delle forze umane, speriamo veramente che questo possa creare una sinergia fortissima e dare un ulteriore impulso al turismo, alle nostre montagne, ai nostri Dolomiti